Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato, questo canale YouTube nato per caso che sta avendo un discreto successo, quindi sono felicissimo e che sta continuando a ricevere richieste, domande, cose particolari insomma, mi state facendo tantissime domande anzi, vi ringrazio perché adesso non ho proprio più tempo libero se prima era poco, adesso non ho proprio più tempo libero vabbè ragazzi, si scherza come al solito, voi fatemele sempre le domande qui sotto e oggi si parla di una vostra domanda, come al solito che riguarda l'oggetto o la stanza più sporca in casa molti di voi mi hanno chiesto infatti, qual è la stanza più sporca in casa? è vero che è il bagno, sottolineando questa cosa, è vero che è il bagno e la tazza, il water che è la parte più sporca? beh, in realtà no, in realtà no, facendo un po' di ricerche in rete in realtà questa è una cosa che già conoscevo però ho approfondito l'argomento ho detto fammi ricontrollare ancora, sono cambiate le cose, sono sempre le stesse non è la cosa più sporca in casa, il water o la tavoletta del wc insomma la cosa più sporca in casa si trova in cucina non l'avreste mai detto, si trova in cucina la cosa più sporca e vi ci faccio arrivare piano piano i batteri proliferano negli ambienti umidi e anche se avete una cucina molto molto pulita perché la pulite tutti i giorni ad ogni ora che cos'è che rimane sempre umido? la spugna e i canovacci in genere quindi in queste zone proliferano i germi addirittura batteri fecali che qui si riproducono e sono praticamente centinaia di migliaia in più rispetto a quelli che trovereste al bagno, cose da pazzi eppure così la spugna ha il record dei batteri, anche batteri fecali che insomma la spugna è la cosa più sporca della casa insieme al canovaccio, quello che utilizzate per asciugare i piani della cucina oppure i piatti o i bicchieri quelle sono le cose più sporche della casa e io vi invito a riflettere se la spugna serve per pulire i piatti allora noi quando usiamo una spugna piena di batteri per pulire i piatti cosa succede ai piatti? bingo! ma non è sempre così in effetti quando le superfici si asciugano diciamo così tendono a diminuire questi numeri di batteri ma comunque ci sono quindi insomma è una curiosità che fa piacere sapere soprattutto quando siamo a casa mangiamo e ci ricordiamo che potremmo magari mangiare sulla tavoletta del bagno perché potrebbe essere simile al nostro piatto bingo! bingo ragazzi va bene questa era una curiosità vi lascio con l'ultima cosetta quando scaricate il bagno attenzione perché questa è una cosa che vi sciocca quando andate a scaricare il bagno alcuni dei batteri contenuti invece nell'urina insomma tutto quello che producete e gli scatti del vostro corpo praticamente vengono sparati fuori del batter a livelli inverosimili perché arriva questo getto d'acqua molto molto violento e quindi spara i germi al di fuori del batter anche a diversi metri quindi probabilmente il vostro bagno è più pulito della cosa che avete di fronte al bagno se non abbassate la tavoletta e questo per ricondurci al fatto che abbassare la tavoletta potrebbe essere utile a che cosa? ad evitare che i germi entrino in contatto con altre pareti del bagno come al solito se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo alla prossima e se non vi siete iscritti fatelo